No, ti prego, ti prego, ti prego. Ma la Coppa è nerezza! Prima partita finale 5.000 e 2.000 anni di impegno Questa è tutta l'arte, 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 l'arte No, è tutta l'arte! Ciao, per favore, Giada! Noi sentiremo ancora la campana e annuncia che a partire con le nazioni ci saranno le eliminazioni, però la posizione sono a meno 5 e le eliminazioni saranno doppie, quindi pure avrete un giro e un giro. L'atleta numero 192 e 152 prima munizione Grazie! Allora, mi raccomando ai giudiciati, però, se ne vengono eliminati e a plena in questo caso, che mi raccomando sono la mezza in questo caso. Ti avevo sc 길ione del Jack, poi abbiamo scelti di un piaccia di un giro Nel senso modo eliminata, oggi il passaggio aiuta con l'eliminazione. Vediamo chi saranno nelle prossime due. No, non sono stata io. Eh, sveglia. Non sono stata io. 537 fermazzi, 92 fermazzi. Fermazzi, fermazzi. No, non sono stata io. No, non sono stata io. Non sono stata io. 192 si deve fermare 175, 206 eliminate Vabbè, tanto lei la fa la vita già. Porta lì, Jack! Vai, Nacchere! 515 e 199 caramassi. Passaggio di 5 e la l'ultima doppia del nazionale. Scara di 5, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 5, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 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 2, 1, 2, 3, 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 2, 3, 3. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.